La situazione in alcune zone del centro storico di Ragusa Superiore sta diventando imbarazzante. Lo stesso imbarazzo che ha provato un'operatrice del settore immobiliare che ieri mattina ha accompagnato alcuni turisti inglesi a valutare l'acquisto di un'abitazione della zona. Solo che all'arrivo, ai loro occhi, si è presentato uno spettacolo a dir poco indecente. Cumuli di sacchetti di spazzatura ovunque. Facile immaginare la reazione dei potenziali acquirenti e la cattiva figura che Ragusa ha fatto nei confronti di eventuali investitori stranieri. E' quanto denuncia il capogruppo del PD al Consiglio Comunale, Mario Chiavola, che rivolge l'ennesimo invito alla Giunta Municipale affinché si possa intervenire nella maniera più dura rispetto a chi continua ancora oggi, nonostante la raccolta differenziata sia entrata a regime ormai da un po' di tempo, a sporcare alcune aree della città. L'episodio che ho raccontato, sottolinea Chiavola, testimonia quella che è ormai diventata una situazione intollerabile. E tutto ciò non è stante la grande volontà dell'impresa ecologica che gestisce il servizio di igiene ambientale, che ogni volta che è chiamata in causa si dà da fare per rimediare all'inciviltà di alcuni. Che fine hanno fatto il potenziamento dei controlli e delle telecamere di sorveglianza? Bisogna colpire con maggiore durezza, conclude Chiavola, chi non vuole rispettare le regole, chi ancora oggi non intende attenersi a semplici pratiche di selezione dei rifiuti, e soprattutto colpire chi, perché riteniamo che sia in questo il problema principale, non vuole regolarizzare la propria posizione perché è abusivo, non avendo mai pagato la Tari. Grazie a tutti.